qui a napoli al congresso di fisica e medicina quantistica acqua e coscienza un graditissimo ritorno il ritorno della professora roberto maria sassone è psicologo e psicoterapeuta ed è venuto qui a napoli per parlare della scienza della coscienza professore ma che cosa si intende per scienza della coscienza beh per quanto mi riguarda scienza della coscienza significa togliere dal campo della spiritualità così come era conosciuta tutta una serie invece di informazioni sull'essere umano che appartengono ai livelli della possibilità di funzionamento dell'essere umano stesso nel momento in cui attraverso dei processi trasformativi che avvengono anche attraverso la meditazione può cominciare a ritrovare un modo coerente di funzionare consapevolmente che appartiene alla sua natura e quindi per questo scienza della coscienza perché come abbiamo visto anche in questo convegno e si è anche parlato proprio di scienza della coscienza anche da fisici possiamo veramente intendere una seria ricerca che tolga il reame della coscienza alla spiritualità e lo inserisca nello studio dell'essere umano professore questo rendersi conto questa consapevolezza della coscienza e anche il risveglio della coscienza dove ci può portare la risposta immediata ci porta a noi stessi il vero problema è che ciò che noi chiamiamo noi stessi è offuscato fondamentalmente da tutta una serie di sovrastrutture mentali e emozionali che ci impediscono di contattare in maniera proprio semplice essenziale quello che noi siamo quindi la percezione chiara della nostra consapevolezza e anche la percezione del contatto continuo e reale con le persone che non sono poi separate da noi con la vita che non è separata da noi e quindi con la terra stessa creando anche direi in maniera naturale spontanea la coscienza ecologica che ama la terra che in questo momento secondo me è la soluzione più grande da poter realizzare ed è il compito a cui penso ogni piccolo individuo cioè anche chi non ha una rilevanza perché ha un'importanza in istituzioni ma si occupa di se stesso può col suo piccolo contributo offrire alla terra diciamo che molto spesso le cose che non vanno sono anche determinate dalla non conoscenza nel momento in cui diventiamo consapevoli che c'è tutto un mondo che comunque funziona in una maniera diversa diventiamo veramente coscienti e anche vigili diventiamo poi e torniamo anche un po a contatto con noi stessi ecco quanto è importante per esempio professore che iniziative di questo genere vengano fatte vengono amplificate in tante altre città per inoltrarci in quel risveglio della coscienza che è così necessario allora parto da un presupposto secondo me ormai il vero lavoro non è tanto politico ma quanto sociale noi abbiamo un compito veramente fondamentale poter diffondere sempre di più queste conoscenze significa attraverso questi convegni dare la possibilità alle persone di sapere che c'è un altro modo possibile ma anche realizzabile praticamente cioè non bisogna essere dei grandi iniziati bisogna essere delle persone di buona volontà con determinazione che si svegliano e dicono chiaramente adesso voglio cominciare a occuparmi veramente di me stesso è chiaro che modificare la consapevolezza degli individui permette di modificare anche il tessuto del comportamento sociale perché immaginiamo delle strutture funzionanti ce ne stanno già tante ma a cui sono collegati i personaggi che non abbiano realmente la consapevolezza di volerle adoperare per nobili scopi e invece le stesse strutture organizzate da persone che credono nel valore reale della trasmissione della compartecipazione della condivisione per gli esseri umani le strutture non cambierebbero cambia la consapevolezza degli individui e questo porterebbe veramente ad una trasformazione della società le faccio l'ultima domanda come psicologo e anche psicoterapeuta quando lei parlava prima di occuparsi di se stessi a volte siamo stati abituati a considerare questo atto egoistico mentre invece è molto importante occuparsi di se stessi perché solo così potremmo poi occuparci degli altri beh sì io direi che l'egoismo è quando occuparsi di noi stessi avviene attraverso l'esclusivo soddisfacimento dei nostri capricci ma quando occuparsi di se significa ritrovare il contatto reale con se stessi questa è la base per qualsiasi tipo di comunicazione nessuno di noi può dare ad un altro ciò che non ha in se stesso io la ringrazio professore grazie per essere al fianco di spazio tesla anche in questa occasione a napoli grazie a voi per questa possibilità grazie a voi grazie a voi grazie a voi